Buongiorno, giornata sannita per il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in visita negli stabilimenti di due eccellenze produttive, una del settore automotive e l'altra dell'agroalimentare. In diretta da Benevento ci racconta tutto Massimo Calenda. Sì, buongiorno, siamo qui all'interno del passificio Rummo dove da qualche minuto si è conclusa la visita del Presidente del Consiglio Gentiloni che come tu hai ricordato prima di venire qui da Rummo è stato all'Adler di Erola. Una visita che ha una caratteristica, anche un omaggio alle piccole e medie imprese italiane che poi sono il tessuto connettivo dell'economia del Paese e Gentiloni ha anche ricordato l'importanza di vestire al Sud, ricordando anche che il passificio Rummo che ha subito danni dall'alluvione come voi ricorderete che ha funestato queste zone qualche tempo fa, ce l'ha fatta. Come ce l'ha fatta lui ce la possono fare tanti altri industriali. Ma sentiamo quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Basta con l'idea che ogni tanto si accompagna con qualche lamentazione di troppo che nel mezzogiorno non sia possibile fare imprese di avanguardia e di qualità. Perché gli esempi che abbiamo davanti ci dimostrano che è assolutamente possibile.